sorridere fa benissimo anche se non hai niente da sorridere che sei arrabbiatissima arrabbiatissima con tutto il mondo sei triste se tu ti metti così che serviti proprio ti sforzi a fare la faccia sorridente anche con gli occhiettini strizzandoli proprio come quando sorridi allora succede un fenomeno meraviglioso che siccome il cervello è stupido dopo un po che sorridi si convince che tutto va bene e inizia a produrre delle sostanze meravigliose delle droghe naturali che ti fanno stare bene la dofamina l'endorfine queste cose qua che tra l'altro aumentano in maniera incredibile i poteri del sistema immunitario che picca i virus proprio testate in faccia di prende e perciò stai un po così 5 minuti al giorno così proprio che devi sentire qua i crampetti perché tu qui c'hai due ghiandoline che le stricci e farti una dofamina l'endorfine scientifico non mi sono inventato niente proprio fidati è vero ciao una serata sorridi grazie a tutti